Allora questo personaggio è un matto praticamente che lei ricordava il mio incommio e che scrive la lettera a sua mamma e dice ciao mamma fa tutto bene qua fa sto meccato bene fa però dovrei mandarmi a casa fa ieri mi ha fatto i raggi fa se domani mi fa i cerchioni e vi ho casa in bici Grazie a tutti